Il bilancio di fine triennio era arrivato questa mattina e sembrava un discorso di commiato, ma alla fine Luigi Di Loreto non lascia ma raddoppia. Nell'assemblea dei soci di questo pomeriggio è stato eletto il nuovo consiglio d'amministrazione, che non è più monocratico ma collegiale. A guidarlo sarà ancora una volta Luigi Di Loreto, confermato alla presidenza della SACA, espressione del civismo gerosolimiano. L'avvocato sarà affiancato Ratania Liberatore e Corrado Gualtieri, due componenti che vanno a completare il nuovo CDA3. Da qui l'accordo raggiunto che vede coinvolgimento della Lega che ha puntato su rivisondoli, mentre Scanno entra in quota centrosinistra, Pratole ed altri comuni del comprensorio non hanno trovato una rappresentanza, mentre è fallito il tentativo di alcuni sindaci di arrivare a un accordo tra centrodestra e centrosinistra, escludendo i civici gerosolimiani. Di Loreto quindi resta in sella, grazie a un accordo che allarga il consiglio di amministrazione, non un componente ma tre, segno evidente che la politica deve sempre aggregare e non dividere. In tre anni di gestione è stato ridotto lo squilibrio di oltre un milione di euro attraverso scelte strategiche mirate, conseguendo una riduzione dei costi di energia elettrica e la stabilizzazione del personale precario, al quale sarà data una prospettiva di lavoro più certa. Sono questi i risultati più rilevanti che hanno caratterizzato il triennio della gestione dell'amministratore unico della SACA Luigi Di Loreto, arrivato oggi alla fine del suo primo mandato. Nel 2016, primo anno di amministrazione, è stato ereditato un disavanzo di circa 1.750.000 euro. Al 2018 il passivo complessivo in termini di competenza è stato portato a 750.000 euro. Tutto questo è stato possibile grazie al contenimento dei costi generali. E l'era di Loreto continua.